E poi Cancro, che vi verrà invece un sabato italiano, Sergio Caputo, sempre in quella canzone c'è la famosa frase, l'orosco, l'oprono, stega, sviluppi decisivi, Sergio Caputo e sviluppi decisivi ci saranno per voi in questo giorno amici del Cancro, perché è una luna che parla d'amore e di sentimenti, ma è soprattutto questo sole che diventa luminoso, bello e soprattutto caldo per riscaldare la vostra anima, il vostro cuore, ma per riportare grande fiducia anche e soprattutto sul lavoro, lì ne avete davvero bisogno. Oh, super lavoro anche per il nostro amico Azzo.